Ciao ragazzi siamo tornati con gli carichi storia di Fortress, siamo alla fase 6 di 6, parla con Hope della battaglia finale praticamente finita, bisogna soltanto interagire con l'NPC di Hope e sbloccare gli XP, un bello e cozzo mentre atterriamo vi faccio vedere dov'è, attenti i primi giorni, le prime ore perché sicuramente sarà pieno di gentile, che prova a killarvi però diciamo che se atterrate quando la città è lontanissima dalla trattoria del bus non dovreste provare a avere problemanza, allora la casa è la prima a destra, eccola qua questa rosa ma ormai lo sappiamo tutti e Hope non è più in quella stanza là ma è qua fuori a prendere il sole vicino alla cassa Avenger, allora gli parliamo, ci sblocca la missione, vediamo anche cosa ci racconta della guerra che si sta diciamo iniziando contro lo Dottor Doom, un bello e cozzo ancora, ciao!